Il futuro ci ha insegnato a aver coraggio sul futuro, a sapere prendere rischi, innovare e soprattutto ha dimostrato come si può cambiare e cambiare per il meglio. L'ultimo incontro che abbiamo avuto è stato proprio bello perché lui voleva molto parlare di futuro e dunque questo grandissimo ottimismo e questo grande coraggio a volere stimolare in modo da poter creare un mondo e un paese migliore, più forte e credo che questo suo ottimismo è sicuramente il ricordo più bello e importante che mi ha lasciato.